Ringrazio Marco per queste parole, sono stati cinque anni di collaborazione, vedo in sala tanti amministratori comunali, sindaci, candidati sindaci e le ringrazio per la presenza perché il fatto che ci siano ancora oggi persone, uomini e donne che si mettono a disposizione per la propria collettività, per creare un tessuto sociale che abbia un rapporto con tutti gli enti è motivo di orgoglio ed è un motivo in cui come ha anticipato Marco chi si occupa di politica, chi oggi amministra un ente come Regione Piemonte deve avere un rapporto quotidiano con i territori, deve avere un rapporto quotidiano con le associazioni, deve avere un rapporto quotidiano con le imprese perché se oggi non c'è la volontà politica di ascoltare i territori, quando poi si va in consiglio regionale oppure quando si va al Parlamento, quando si va in Europarlamento non si hanno le possibilità di portare avanti dell'istante perché non c'è un'entrata di informazione, non c'è un'entrata di quel sentimento territoriale che invece noi abbiamo l'obbligo di rappresentare in quell'assise, un'assise che è un'assise importante per un motivo, Regione Piemonte come tutte le regioni tante volte non viene riconosciuto, non c'è una sensibilità da parte del cittadino perché il cittadino ha due enti di riferimento, il primo il comune e oggi fare il sindaco per una città è veramente motivo d'orgoglio perché le responsabilità che hanno i nostri sindaci sono enormi e secondo è per le politiche nazionali per quanto riguarda il Parlamento, tante volte la Regione Piemonte non viene percepita dal cittadino ma invece il cittadino deve sapere che nella sua vita la Regione Piemonte fa delle scelte molto importanti, fa delle scelte soprattutto in ambito sanitario, la sanità oggi aveva un 82% del bilancio regionale e di materia sanitaria, noi oggi sicuramente sulla questione sanità non ci tiriamo indietro, noi oggi quando qualche parte politica fa una narrazione in cui racconta che le visite domiciliari non esistono più, sono terminate, mente sapendo di mentire, poi non mi sottraggo alla critica che oggi ci sono delle criticità per quanto riguarda le liste d'attesa, so benissimo questo è un problema nazionale, è un problema che il prossimo assessore delle Regioni Piemonte insieme al direttore dovrà mettere mano e dovrà trovare delle soluzioni, ma le soluzioni sono innanzitutto la prima, la prima non ci deve essere un preconcetto culturale che un soggetto privato che si occupa di salute pubblica è visto solamente come un soggetto che voglia trarre profitto da un bene universale, noi oggi dobbiamo avere il coraggio di capire che quei soggetti che oggi si occupano, se facciamo delle convenzioni insieme a Regione Piemonte possono e devono essere una risorsa, abbiamo due regioni vicino che hanno due colori politici diversi, una è la Regione Lombardia e una Regione Emilia Romagna, quindi governata l'Emilia Romagna da 50 anni al centro-sinistra e la Regione Lombardia è governata da 30 anni al centro-destra, dove hanno una sanità che funziona, perché è stata una sanità che è stata aperta alle soluzioni, noi invece in Regione Piemonte abbiamo sempre seguito uno schema e questo schema, dico sempre come giocare a calcio, se io gioco col 4-4-2 e non vinco una partita, è una sera a giocare a tre dietro semmai mi consente di strappare un risultato e questo sarà una sfida che Alberto Cirio ha già lanciato, che nei primi 100 giorni lancerà un piano sanitario e il secondo punto è che questa Regione e soprattutto questa terra, questa terra ha avuto il privilegio secondo me nell'anno 2023 di avere erba luce e vino regionale, questo secondo me il vitigno regionale 2023 è stato un motivo d'orgoglio e motivo perché tanti di voi che hanno creduto in quel prodotto, hanno saputo fare squadra, hanno avuto una Regione Piemonte che ha saputo ascoltare, per troppi anni il Canavese e questa terra era vista solamente come una terra di grandi lavoratori, di grandi imprenditori che finiva lì, pagate gli F24, i servizi ve li concediamo ogni tanto, un po' sì, un po' no, ma voi ricordatevi che dovete pagare l'F24. Oggi invece la concezione di questa Regione non è Torino centrica, cioè non è una Regione che si basa solamente sui quattro corsi, Torino, Corso Francia, Corso Tazzoli, Corso Unione Sovietica e il resto del mondo, ma invece si è voluto dare una pluralità ai territori, un ascolto, sapere che ci sono queste realtà che in un futuro, quando il paraurti purtroppo non è più solamente fonte di reddito e di ricchezza di questa Regione di questa provincia e ce ne siamo resi conto, forse troppo tardi. Dobbiamo incominciare a diversificare anche noi, dare l'opportunità come ente regionale di dare l'opportunità a dei settori che sono sempre stati visti secondari e per me invece è stato un grande errore, come il turismo. Noi oggi abbiamo una Regione che è stupenda, è stupenda perché abbiamo i laghi del Piemonte Orientale, abbiamo le Langhe, abbiamo il Monferrato, abbiamo una città come Torino, abbiamo la Via Lattea, che sulla Via Lattea oggi quando vedo Milano-Cortina su quel Deplian che in tutto il mondo verrà illustrato e noi abbiamo avuto una talebana come il Sindaco di Torino che ha voluto fare le barricate per non accogliere e ricevere le Olimpiadi, ecco questa è una differenza sostanziale. Quando raccontano la politica sono tutti uguali, no, tutti uguali no, ci sono dei politici che hanno una visione e fanno delle scelte, ci sono altri politici che hanno ricoperto di ruoli importantissimi come il primo cittadino della città di Torino che ha detto no alle Olimpiadi in Val di Susa. Ma il netto di quello, per ritornare sul turismo, il turismo deve essere un volano di questa regione e di questa terra, ma perché deve essere un volano? Abbiamo un comune, faccio sempre esempio del Sestre, Sestre è un comune di 2000 metri e in quattro ore un turista americano, un turista europeo può scendere dal Sestre e andare in una località turistica che sia, ovviamente non piemontese perché non abbiamo ancora il mare ma forse ci arriveremo, ma la distanza che noi percepiamo ampia da Sestre alla Liguria di quattro ore per un turista internazionale sono delle distanze veramente ridotte. E questo è per dire cosa? Che dobbiamo incominciare a vendere il nostro prodotto, il prodotto Piemonte a tutto il mondo. Qualcosa è stato fatto, Visit Piemonte ha fatto dei risultati ma dobbiamo incrementare l'offerta di turismo, dobbiamo chiedere innanzitutto anche all'aeroporto, una collaborazione importante, oggi facciamo 4,2 milioni, 4 milioni, non ci arriviamo ancora, 4 milioni e mezzo scarsi di passeggeri, ma dobbiamo ampliare la possibilità di dire al nostro aeroporto di essere ricettivo di tanti vettori aerei per portare turismo. Noi oggi abbiamo i tassisti che mi dicono Andrea ma com'è possibile che nella città di Torino ci siano solamente quattro veri eventi l'anno, ci sono le TV finals, c'è la sala dell'auto che è ritornato quest'anno, c'è Artissima e poche altro. Invece noi dobbiamo continuare a vendere il nostro prodotto, il nostro territorio perché questa è una fonte di ricchezza enorme e soprattutto come dicevo prima una terra cannavesana che è sempre stata una terra dove era basato sul secondario e sull'industria andare a, non dico trasformarla perché trasformarla è un parola importante, ma insieme al secondario aiutare le attività che oggi stanno diventando delle società solide soprattutto per quanto riguardano i vitigni dell'erbaluce è per noi motivo d'orgoglio, è motivo d'orgoglio perché sappiamo che diversificare in qualsiasi ambito finanziario lavorativo di un'associazione è importante e anche l'interregione deve essere in grado di saper dare delle risorse a tutti i comparti, a tutti i settori e non solamente come succedeva qualche anno fa alle solite associazioni dell'Ampia, alle solite associazioni di Ascatasuna, poi abbiamo il sindacolo russo che anziché fare delle politiche di sicurezza per la città di Torino, non so se avete letto, ha legalizzato un immobile che per 26 anni è stato occupato dagli scuotter, ecco anche questo è un altro motivo che ci differenzia la politica tra noi e il centro-sinistra. Al netto di questo io, Marco ha detto una cosa importante, il rapporto col territorio, ho piacere di continuare questo rapporto che c'è stato in 5 anni con te, con i sindaci, continuiamo a lavorare veramente passo a passo insieme perché questo è l'unico modo in cui un territorio può farsi valere all'interno di strutture superiori e fare squadra, non avere quelle ambizioni personalistiche, ma lavorare tutti i giorni in sinergia per poter provare a portare ulteriori risorse su questo territorio. Tanto è stato fatto in questi 5 anni, ma sicuramente dobbiamo continuare in questa direzione, noi dobbiamo continuare in un percorso di centro-destra, ma perché di centro-destra? Per troppi anni c'è stata l'alternanza politica, in regione Piemonte, centro-destra, centro-sinistra, centro-destra, centro-sinistra. Oggi abbiamo l'opportunità invece, come in tantissimi ambiti, sanitario, lavorativo, del terzo settore, di dare una programmazione, una programmazione che sa bene chi oggi si occupa della cosa pubblica, non è come un interruttore, luce accesa, luce spenta, ci va un percorso, ci va del tempo, ci vanno delle persone e secondo me si stanno creando delle condizioni politiche, industriali, sociali per far sì che la regione Piemonte possa tornare veramente un motore di questo paese. Siamo stati, geograficamente lo siamo ancora, ai confini dell'impero. Oggi siamo ritornati a essere una regione che ha incominciato di nuovo a galoppare, dobbiamo continuare su questa direzione perché vogliamo di nuovo diventare una delle più grandi regioni italiane. Io vi ringrazio per l'attenzione, Marco sicuramente l'impegno, come dicevo, c'è stato, ci sarà per i prossimi anni. Il mio partito è sottoscritto, vuole stare vicino alla comunità di Allie, alla comunità del Canavese per toglierci delle grandi soddisfazioni. Grazie ancora di tutto.